Il coronavirus è spiegato agli anziani. Dopo l'incontro formativo con Giuseppe Pergola, intervenuto a nome del Tribunale per i diritti del malato, anche il Centro Sociale Anziani di Sulmona chiude le sue porte fino al prossimo 15 marzo. Gli anziani quindi, considerati la fascia più debole della popolazione, restano a casa. La decisione sarà presa dal presidente Giacomo Spinosa per tutelare tutti i soci del centro di via Morrone, in linea con il provvedimento diramato dal governo. Abbiamo dato specifiche informative sul comportamento da tenersi in questo periodo con il decalogo del Ministero della Salute. Ha integrato il decalogo con minuziosi accorgimenti socio rappresentante del Tribunale del malato di Sulmona Giuseppe Pergola. È necessaria tanta accortezza nei nostri comportamenti quotidiani ma senza allarmismi tutti insieme ne usciremo fuori, sottolinea Spinosa. Nel corsa dell'incontro informativo il TDM rappresentato da Pergola su delega della coordinatrice Katia Puglielli ha illustrato il vademecum da adottare e tutti gli accorgimenti da tenere in considerazione. Intanto fino al prossimo 15 marzo il centro resta chiuso. Gli anziani dovranno combattere la solitudine a casa ma solo per due settimane. Non appena cesserà la psicosi e l'attenzione si potrà rientrare in via Morrone, nel centro pieno di iniziative aggreganti e attività interessanti.